Il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e rimesso in libertà Fabio Spagnolo, il 39enne brindisino, accusato di aver compiuto un attentato di Namitardo contro il negozio di ottica Minno in Viale Aldomoro. I giudici hanno accolto così il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento firmato dal GIP su richiesta della procura di Brindisi. Sulla base di quanto sostenuto dall'accusa, Spagnolo avrebbe collocato l'ordigno esplosivo alle 2.30 di notte del 6 gennaio scorso, la deflagrazione provocò danni ingenti al negozio di ottica, il movente ipotizzato dall'accusa e di una ritorzione a causa di un'aggressione subita qualche mese prima per movente passionale e che non riguarda comunque il titolare dell'ottica. Sulla base delle indagini condotte dalla squadra mobile, il 14 aprile scorso Spagnolo era stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Brindisi. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Barbara Nestore, l'indagato negò qualsiasi responsabilità nell'attentato, ma il giudice confermò il provvedimento. Ora la decisione del Tribunale di Riesame, le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane.